Per i fattori oggi sono arrivati tre punti come si sperava alla vigilia? Siamo comportati bene, avevamo altri esordienti, va bene così. Ecco, sabato ultima giornata di campionato a Brescia, però possiamo tirare un bilancio stagionale? Sì, è un buonissimo bilancio, direi 40 punti, sono tanti secondo me. Abbiamo fatto bene, bisognava migliorare, io non mi accontento mai. Vediamo, si è buttato le basi per l'anno prossimo e l'anno prossimo mi auguro non di fare più punti, ma di avere più personalità e sicuramente molte ragazze giovani che abbiamo fatto esordi quest'anno sicuramente avranno trovato un po' di maturità, anche un po' di tranquillità a livello calcio, che secondo me ti abbiamo solo a migliorare.